Un incontro importante questa mattina, l'ambiente è tema delicatissimo soprattutto per quanto riguarda le estrazioni petrolifere, quali garanzie avete dato ai comuni e ai sindacali? In queste settimane è nota a tutti che abbiamo lavorato proprio per organizzare il sistema dei controlli ambientali, abbiamo verificato lo stato dell'ambiente con il punto bianco che i guidati verranno validati in questi giorni, abbiamo verificato il sistema di acquisizione dei dati dalle centraline sui territori e si stanno organizzando le ultime questioni tecniche, le ultime questioni tecniche affinché quando Total partirà tutti i dati ambientali verranno registrati e saranno monitorati a tutela proprio delle condizioni del territorio e dei cittadini. Dei suoi uffici c'è stata un'estrema attenzione all'ambiente in questo periodo, c'è qualche richiesta nuova di ulteriori controlli che è pervenuta dai comuni? No, non è questione, i controlli devono essere fatti nell'ambito di quello che prevede la legge, la legge italiana assicura una tutela dei territori e della salute molto ferra, noi dobbiamo rimanere nell'alvio della legge e rispettare quelli che sono i cani della legge. Arpab e Ispra domani per caso saranno presenti all'incontro con Total, è un'ultima domanda, se anche lei ci sa dare qualche tempistica sull'apertura del centro? Arpab e Total, Arpab e Ispra non parteciperanno alla riunione perché non è una riunione in cui si parleranno di temi ambientali, quelli sono altri tavoli, domani l'incontro è su Total, si parlerà di quello che è l'accordo stipulato nel 2006, si parlerà di un'evoluzione di questo accordo, si porteranno sul tavolo quelle che sono le istanze dei comuni che abbiamo registrato oggi, di quelle che sono le istanze degli imprenditori, perché da un altro lato noi abbiamo anche sentito gli imprenditori, i problemi che hanno avuto l'imprenditoria locale e quelli che non esistono nel mondo del lavoro. L'ultima riunione abbiamo acquisito queste informazioni perché sul tavolo siano messe tutte le questioni sul tavolo e siano affrontate una volta per sempre affinché quando Total partirà tutto sia la luce del sole. Grazie a tutti!